Ciao a tutti sono Maryvideogames, oggi continuiamo con The Sims e andiamo avanti Ok, il corso sta andando bene, fra tre giorni dobbiamo fare l'esame Ecco, invece di andare qua, io passo al controllo di Anna Il negozio lo lasciamo chiuso, visto che sono due giorni che facciamo come nei matti Quindi, passo al controllo e poi magari faccio ritornare lui Ecco, ho fatto a lui, lo porto pure qua Perfetto Stiamo un po' tranquilli, anzi, visto che dobbiamo aspettare tre giorni Facciamo così, viaggiamo, andiamo a mangiare fuori Allora, viaggia Ah sì, volendo anche con Noemi, almeno, ci facciamo un'amica, ecco Ok, allora, andiamo, andiamo, vediamo un po' Ecco, qua c'è il ristorante Allora, questo per il campescatore Il bar Un ristorante tavola calda Una burgheria Andiamo in una burgheria, dai Eccoci qua tutti, allora chiediamo un tavolo Siamo in cinque Una mia sim? Da quando? Cioè, io ho comprato sta tutta, non so, le va più Difatti, alcune volte gli cambiavo Il vestito, si metteva sempre lo stesso Vabbè Ok, dai, sedetevi Ok, ordina per il tavolo Ok, che cosa possiamo mangiare Uno dog Ma io direi questo, sì, questo per tutti Sì Aspettiamo adesso che ci portano al cibo Ok, mi sembra molto strano di non essere nei panni di Noemi Però vabbè Ok, è arrivato il cibo Buttati e mangia Prima ti fregano Ragazzi, mangiate tutti Tutti dovete mangiare Prima che vi fregano il cibo Ok, il bambino non ce l'ha il piatto Qua, ok Ok, lui già sta pensando Magna, bravo Anche lui Ok, ho saputo che al concivare Si sta svolgendo la vetrina dei talenti No, mi interessa, grazie Ecco, così li vediamo meglio magari Se riesco Perché qua c'è il muro e non riesco È un casino sto posto Perché mi hanno dato sto posto Ok, più o meno Ti ho detto di qua Che macello Ok, i miei sim stanno tornando a casa L'abbiamo pagato a posto Mi fa ridere la mia sim Che arriva sempre qua Bicicata anche dentro casa Dentro i negozi C'è dappertutto, vabbè Molto disagio per l'arte Oddio, è a disagio perché deve fare l'esame Bupe, per la trepidazione per l'esame Oh no, quel gorgogli di stomaco non promettono niente di buono Sono studio frenetico per l'esame Oh no, l'esame finale imminente Fra poco Ok, preparati che a momenti Dobbiamo andare all'esame No, dove vai? Non andare in piscina che fra poco vai l'esame Anzi, vai qua Ecco, brava, vai Vai a lezione, vai, vai, vai Ok Perfetto All'esame, speriamo bene Beh, è ben preparata Quindi l'ho fatta studiare tutto al weekend Quindi non mi dovresti andare male Speriamo che abbiamo preso in tutti e due corsi a più Così manteniamo quella media Ok, vediamo un po' Anna consegnante i propri compiti Con sicurezza Ritiene di aver tratto al corso Tutte le conoscenze che potremmo Se un impegno Ok, quindi deve essere andato bene Ok Ok E i nostri figli E i figli vanno pure bene a scuola Perché hanno tutte due dieci Senza che fanno i compiti a casa Ma va bene Ok, dai E' andata anche questo corso Ora aspettiamo Il voto finale Non sapete che cosa è successo Praticamente l'ho fatta stare qua tutto il giorno Adesso era abbrunciata Ora se riesco Prendi il sole Vediamo Se sto qua tutto il tempo Se Era diventata tutta rossa rossa Vediamo un po' Facciamo passare il tempo e vediamo Dovrebbe Dovrebbe Diventare tutta rossa Ah Finalmente sono arrivati Ok A più A più Ok Abbiamo la media nell'A più ovviamente Ok Ora è di iscriversi Sì va bene E' ovvio Sempre due corsi Perché più di due E' un po' difficile Anche perché poi dobbiamo gestire la pasticceria Ed è un casino Avanti Sempre a casa Mi dispiace che non si veda l'università Però Cioè con lei dobbiamo far così Poi magari manderò Il robot all'università Sempre la stessa E poi essendolo da solo Possiamo stare lì Possiamo dormire lì E guardiamo meglio con l'università Ok Va bene Fra 17 ore Cioè loro ti danno poco tempo Davvero Sta arrossendo raga E' arrossita Guardate Tutta rossa No È diventata tutta rossa Che faccia Ok va bene Ecco brava Allora devi fare la tesina Perfetto Presenta la tesina Per la sessione Adesso rinizio di nuovo Tutto il casino Allora attività Allora attività del tesina Per la sessione Presenta una tesina Coppia da no Scrivila tu E poi dobbiamo fare pure i compiti a casa Certo Facciamo i compiti Aspetta Quali compiti devo fare per prima Visto che fra 16 ore Allora Al di là dei frutti di mare Ok Al di là dei frutti di mare Va bene Avanti Dai Veloce 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 Niente ragazzi Io direi finire qua Penso di sospendere un attimino Questa serie Per fare Man of Medan Appena finisce Poi riprendiamo Non vi preoccupate Così almeno accontento tutti Perché non mi va di accontentare Una parte di scritte E l'altra No Quindi cerco di accontentare Più o meno tutti E niente Comunque Non vi preoccupate Poi la riprenderemo Questa serie Spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un like Commentate Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram E ciao ciao